Dal Consiglio regionale arriva l'intimazione al dietrofront sulla maxi-sospensione di corse di autobus nel territorio provinciale paventata da Adriabus. Ad annunciarlo è stato l'assessore con delega ai trasporti Goffredo Brandoni rispondendo ad un'interrogazione della consigliera regionale Marta Ruggeri che chiedeva garanzie sul servizio essenziale del trasporto pubblico locale. Adriabus aveva infatti annunciato una sospensione delle corse nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre oltre che dell'1 e del 6 gennaio. Sospensione motivata da un personale fortemente sottorganico e da una necessità di smaltimento di ferie accumulate calibrato in relazione ad un periodo di fisiologico calo di afflusso di utenti sulle corse. La regione però ora chiede le garanzie del servizio di trasporto pubblico concedendo la sospensione solo a Natale e Capodanno. La richiesta del gestore non è stata autorizzata dagli uffici e in relazione sia alle esigenze espresse dall'azienda che alla bassa domanda di mobilità del periodo indicato si è intenzionati ad autorizzare esclusivamente le singole giornate. Noi autorizziamo il giorno di Natale, quindi prossimo 21 e del 1 gennaio. Questo è quello che daremo come autorizzazione come servizio trasporto pubblico locale della regione. Nelle restanti giornate resterà valido il programma di esercizio del festivo invernale. Soddisfatta la consigliera Marta Ruggeri per l'attenuazione di un problema sul quale si erano mobilitati anche sindacati e associazioni di categoria. Questo delle infrastrutture e della mobilità è un tema che a noi particolarmente sta a cuore anche perché se vogliamo parlare di rilancio delle zone interne non si può prescindere da affrontare queste tematiche. Ora Adria Bus dovrà dunque adoperarsi per trovare le autisti che serviranno a garantire il servizio.